Ha percorso gran parte dell'Italia in sella la sua bicicletta per decantare la Divina Commedia e Giorgio Battistella, professore di religione, che nel suo interessante e lungo viaggio è arrivato anche nel Cilento, due le tappe cilentane, Palinuro, ospite della Proloco Cittadina, e Capitello, frazione costiera del comune di Spani, dove ha trovato ospitalità nella struttura ricettiva 3G, una passione che nasce da lontano e che da diverso tempo ha portato Battistella in giro per lo stivale. Il progetto nasce da due mie grandi passioni, quella di correre in bicicletta fin da giovane, ho fatto tanti viaggi in giro per l'Italia e all'estero, e la passione per Dante, che pure coltivo da tanti anni ai tempi della scuola. Due anni fa, per la prima volta, ho provato a fare un giro in bicicletta dove ad ogni tappa potessi recitare un brano della Divina Commedia. La cosa è riuscita veramente bene, e così l'ho ripetuto l'anno scorso in Puglia e quest'anno lungo la costa tirrenica, trovando sempre persone che gradiscono, poche o tante che siano, ascoltare questi versi, anche in questa modalità un po' così originale del professore che gira in bicicletta per l'Italia. Ecco questa modalità un po' originale. Ci spieghi come funziona, come riesci a contestualizzarla? Allora, l'organizzazione parte diversi mesi prima. Io individuo un itinerario di massima con delle tappe più o meno legate al chilometraggio che riesco a fare ogni giorno. Contatto direttamente per telefono le località, di solito le amministrazioni comunali, che non è che rispondano granché, di solito, come in questo caso, anche attraverso amici, comuni, conoscenti, oppure realtà tipo le proloco, centri culturali, e propongo appunto questo tipo di scambio, una serata dantesca gratuita, in cambio dell'ospitalità di una notte. Il pubblico la segue, i giovani soprattutto sono affascinati da tutto questo? Dai giovani non proprio tanto. Diciamo che sono soprattutto adulti e oltre che gustano maggiormente i testi di Dante, perché sono testi obiettivamente impegnativi, intensi anche. Ho visto sì anche dei giovani, anche ieri sera a Palinuro ce n'erano per esempio, ma non sono certo la maggioranza degli uditori. Lei giustamente ha nominato Palinuro perché è stato a Palinuro, poi adesso Capitello, dopodiché si sposterà in Calabria. Dove termina questo viaggio? E soprattutto, vi è piaciuto il Cilento? Allora, io ho percorso il Cilento ieri e oggi e sono stato particolarmente oggi affascinato dal silenzio e dall'ambiente selvaggio di queste zone, anche dell'interno, senza parlare delle coste che sono straordinarie. Ecco, le prossime tappe che intravediamo ormai in lontananza sono le ultime tappe della Calabria e la meta finale Reggio Calabria, dove concluderò il viaggio.